Quest'anno, come la scorsa volta, è una grande soddisfazione, un grande impegno, una grande motivazione. Cercheremo di onorare al meglio questo scudetto che porteremo sulle maglie, giocando con una grande umiltà ma con grande ambizione. Ormai sono anni che abbiamo questo imperativo di giocare ogni partita come se fosse l'ultima, cercando di portare a casa il risultato. Sappiamo che abbiamo due competizioni dal campionato italiano alla stessa Euro Cup, molto tosta, molto difficile, un campionato più lungo con 17 squadre. Cercheremo di farci trovare pronti dall'inizio, dalla Supercoppa, ci teniamo a un evento così importante e lavoreremo per arrivare già al 21 settembre in condizione. La nostra volontà è quella di confermare il più possibile la squadra, abbiamo cercato di fare il meglio, cercando di allestire la squadra il più forte possibile. Abbiamo raggiunto gli obiettivi e di questo siamo contenti, quindi siamo ben convinti di poter dire la nostra in questo campionato, sapendo, come ripeto, che sarà un campionato molto difficile, una competizione importante come l'Euro Cup, abbiamo qualità, voglia, fame, talento, possiamo essere ancora protagonisti in questa stagione. Si stanno completando anche i lavori al Tagliercio, insomma una casa ancora più accogliente sia per la squadra che per chi andrà sugli spalti a seguire la squadra. Ci saranno delle novità importanti dall'aria condizionata, che sicuramente sarà un vantaggio sia per il pubblico ma anche per i giocatori stessi. Ci saranno novità anche in mezzo al campo, quindi qualcosa di una sorpresa per i nostri tifosi, qualcosa che sarà sicuramente apprezzato e sarà bello esserci.